Ciao, mi chiamo Pietro, so quattro anni e vi racconterò qualche barzelletta. Un daino dice un daino, giochiamo a nascondaino, daino. Un aranza cade da un albero e dice aiuto, aiuto, e un'altra aranza dice aranzati. Che si fa un ladri in discoteca? Si scadena. Una rumaca va a scuola e la mamma gli dice alla rumaca Fai la bava. Come si chiama il figlio di Alibabà, Alibèbè? Un uovo uscito dalla miniera, tutto sudato, ha lavorato sotto. Cosa fa un palloncino allegro? Scoppia dalle risate. Oggi mi sento la testa pesante. Ho la memoria di ferro. Cosa fa un vulcano sporco? Si lava. C'è un cane che si chiama Zack. Ogni volta che lo chiamo si gira. che si mangia un mostro dopo essere stato dal dentista? Il dentista! Vi voglio dire una cosa. Che cosa? Mi sono piaciute le mie barzellette? Ho detto sì. Ho detto sì? Non lo so. Ciao a tutti! Ciao a tutti!